Dal benessere alla bioedilizia, passando per l'ecoturismo e il vivere naturale. Sono queste le tematiche fondamentali che anche quest'anno fanno da struttura al Festival Scirarindi, in programma per il 17-18 novembre presso la Fiera Internazionale della Sardegna, Padiglioni H e I. Nella seconda edizione del Festival, che riscuote sempre più successo con 220 operatori rispetto ai 165 dell'anno scorso, sarà possibile vedere come la sostenibilità in Sardegna sia una strada del tutto praticabile. È una seconda edizione che abbiamo voluto, fortemente voluto, ma non solo a grande richiesta anche di tutti gli operatori che hanno partecipato l'anno scorso e del pubblico. Sono tutti veramente in attesa di riavere il Festival perché è stato veramente un incontro emozionante dove si sono sperimentate delle cose meravigliose e soprattutto la gente ha cominciato a fare networking, a fare rete, a collaborare e tutti vogliono veramente riportare questa energia e continuare a farla crescere. Al centro del Festival Scirarindi il benessere, il vivere naturale. È possibile oggi una società ecologica, per così dire? Assolutamente. La società ecologica tra l'altro è la risposta, la risposta a tutti i problemi che abbiamo in questo momento, alla crisi, all'economia, è possibile. È un piccolo grande esempio di quello che potrebbe essere la nostra società e il nostro futuro. Con tutte le organizzazioni, associazioni, operatori, istituzioni che veramente stanno lavorando a creare un mondo sostenibile. Sono tanti gli esempi di economia sociale, economia solidale di successo. Durante il Festival capiremo come mai siamo arrivati a questa crisi, al debito, a tutta questa situazione che ci angoscia e ci crea instabilità. e potremo attraverso la voce di tanti protagonisti conoscere esperienze di costruzione, di un'economia diversa che mette al centro le persone, il benessere delle persone, il benessere dell'ambiente e che funziona, che non stritola alcune parti per il benessere solo di alcuni, ma che veramente offre una condizione di soddisfazione e di qualità della vita per tutti e soprattutto per il pianeta. Questa è la soluzione. In quanto alla comunicazione, nello spazio fiera saranno presenti gli infopoint wifi di Maxinfo Sardegna, attraverso i quali su tablet e smartphone si potrà accedere a tutte le informazioni utili sul Festival.